La portulaca era usata per escopi medicinali prima di essere consumata come cibo. Ogni giorno si escopre un nuovo beneficio di questo alimento. Che arriva nelle cucine raccogliendo tutte le componenti benefice del terreno in cui si trova. Che questo nutriente fornisce incredibilmente beneficio al nostro organismo se consumato come integratore nella giusta quantità e tempo. Va bene per molti problemi fisiologici. Quali sono i vantaggi del consumo di portulaca? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Examiniamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di un consumo regolare di portulaca? L'homocisteina è un aminoacido misurato nel sangue. Quando questo composto è alto nel sangue, minaccia i basi sanguigni e apre la estrada a le malati cardiace. La vitamina B9 in portulaca protege il tessuto vascolare rendendo inocuo l'excesso di omocisteina. Menter GLI antiossidanti in eso contenuti aiutano a ridurre la formazione di placa nei basi. Asume responsabilità molto importante per un cuore sano. D'altra parte, la portulaca è una buona fonte di fibre, che aiuta a digerire il cibo. Con il suo alto contenuto di fibre, fornisce il nutrimento di batteri benefici, molto importanti per la salute intestinale. Grazie ai componenti vegetali in ello estelo, aiuta a neutralizzare la sostanza chiamata Helicobacter pylori. Che si manifesta in problemi di stomaco come la gastrite, protege la pared interna del stomaco e previene la formazione di squilibri acidi. Portulaca per una struttura cerebrale più sana. 5 E vitamina B6, che esvolgono un ruolo vital nella nostra salute cognitiva, si trovano in quantità molto abbondanti nella portulaca. E' anche ricco di magnesio, che ha importanti effetti sui attività del sistema nervoso. Questi composti sono molto importanti per la formazione della mielina, che garantisce il buon funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, la portulaca è molto ricca di minerali che esvolgono importanti funzioni come e il bilanciamento della quantità di zucchero nel sangue. L'effetto ipoglicemizzante di questo alimento è in parte dovuto al componente vegetale che contiene, l'acido clorogenico, grazie agli ingredienti in portulaca. Riduce il rischio del processo di glicazione e offre effetti positivi contro le flutuazioni di zucchero nel sangue. Il potasio e il fosforo che contiene sono molto importanti nella prevenzione del diabete. Queste sostanze sono efficaci nella escomposizione delle proteine che causano la toleranza al glucosio. A lo esteso tempo, se consumato ai pasti, contribuisce sia al aparato digerente che alla glicemia, facilitando il controllo del peso. Inoltre, i flavonoidi e la sostanza cumarinica in esso contenuti lavorano insieme alla vitamina C per aiutarsi a proteggersi dalle cellulcancerose, aumentando la tibita enzimatica nel corpo. Rende inocchio le sostanze chimiche danos. D'altra parte, la vitamina H contiene e molto beneficia per la salute della pelle. Fornisce la neutralizzazione degli agenti patogeni causati dal inquinamento e da una dieta malsana. E composti vegetali nel suo contenuto aiutano ad aumentare la produzione di colagen in il corpo. E quindi migliora la qualità della pelle. Quindi, se del male nel consumare la portulaca? Innanzitutto, il contenuto di portulaca ha la caratteristica di pulare e il sistema intestinale. Lo estomaco e il apparato digerente. Tutta via, se consumato più e più del necessario, influisce negativamente sul nostro sistema digestivo. Quien di quanta portulaca dovrebbe essere consumata? Consumare un pizzico di portulaca ogni giorno o aumentare il tuo livello di salute. A la luce di queste informazioni. Puoi aggiungere portulaca alla tua dieta e beneficiare dei suoi beneficio a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriviti al nostro canale se non sei ancora iscriviti. Está bene. Informand.